Buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana, ricominciamo con le pagelle di Spezia Juventus perché ragazzi siamo qui, siamo un bivio, tra qualche giorno si gioca una partita a che definire delicata, importante e riduttivo per quella che è attualmente la situazione della Juventus, la stagione della Juventus e siamo concentratissimi per andare in Francia a giocare la partita di ritorno degli spareggi Europa League con il Nantes una frase che mai avrei pensato di dire all'inizio dell'anno, una frase che descrive perfettamente tutta l'amarezza che c'è stata l'atto sportivo e ovviamente non abbiamo nemmeno toccato il tema legato alle penalizzazioni quindi una stagione veramente disastrata e lo sto notando anche dal fatto che comunque i video vengono visti decisamente meno segno che le persone in questo momento non hanno così tanto interesse nel seguire la Juventus forse con il Nantes qualcosina di più ma in serie A vedo che tanti si sono semplicemente allontanati e quindi vi aspettiamo per quando vi sentirete pronti a tornare per chi invece è ancora qui, chi ha ancora voglia di sentirmi blaterare di Juventus pagelle di Spezia Juve 0-2 vi ricordo che è uscito anche il post partita ieri sera nel quale vado a illuminarvi con una potenziale formazione che secondo me in questo momento diventa la più adeguata per la Juventus per la mia disposizione anche se viviamo all'interno di una stagione la quale non abbiamo ancora mai schierato la stessa formazione per due volte di fila così come era stato l'anno scorso è così anche quest'anno e non mi piace come cosa è il terzo anno di fila in cui non riusciamo a dare continuità di rendimento a un 11 titolare e questo sicuramente non è un bene voto 5 a Massimiliano Allegri ieri veramente la squadra ha espresso una prova ai limiti dell'accettabile di accettabile c'è il risultato ed è perfetto così ci sono due frasi che voglio rubare a due colleghi nonché amici qui su youtube che ho sentito nel loro post partita la prima è di Davom che dice una cosa molto logica e interessante cioè non si può aver bisogno di mettere dentro Di Maria con lo Spezia mentre già stai vincendo 1 a 0 perché se no la partita rischia di sfuggirti di mano e questa è una fotografia perfetta perfetta, lucida, sincera e chiara di quello che è il momento della Juventus e quella che è stata ieri la partita della Juventus una partita nella quale ti ritrovi in vantaggio probabilmente nemmeno meritando e dove nella ripresa lo Spezia continua a metterti sotto e tu hai bisogno di mettere qualcuno che illumini che vada ad accendere la lampadina perché se no rischi veramente di non portare a casa la vittoria nemmeno ieri abbastanza chiaro e preciso l'altra frase invece quella di Romeo è già questa partita è poco accettabile di suo perché giustamente lui dice a portieri invertiti non so come poteva finire ed effettivamente poi vedremo il voto di Perini ma non è accettabile nemmeno in questo momento a maggior ragione in questo momento in preparazione alla partita di giovedì la descrizione e l'introduzione che vi ho fatto prima di quello che stiamo vivendo attualmente per la Juve ci porta a pensare che la partita di giovedì sia una partita determinante per farci capire quanto sarà deludente questa stagione perché siamo già stati eliminati una volta dall'Europa dalla Champions non abbiamo toccato palla su sette partite europee ne abbiamo vinta una sola col Maccabi vuol dire che ne abbiamo perso anche una col Maccabi significa che ne abbiamo pareggiata una con il Nantes e francamente una seconda eliminazione europea in Europa League nemmeno in Europa League gli spareggi per entrare agli ottavi di Europa League quindi sedicesimi di Europa League contro una squadra che fatichia il Ligan non lo posso accettare non lo posso accettare assolutamente quindi queste sono due frasi secondo me che descrivono a perfezione quella che è stata la partita di ieri una partita brutta preparata male dall'allenatore della Juventus nella quale non si è riuscito a massimizzare quello che era il potenziale offensivo della Juventus perché io non posso pensare che Moise Ken e Dujan Vlaovic non possano mai rendersi pericolosi perché ieri non ci sono stati dei veri e propri pericoli e Juventus non ha creato dei veri e propri pericoli ieri non l'ha fatto ha fatto il gol nel primo tempo in una rara e isolata occasione da gol e nel secondo tempo c'è stata tanta confusione davvero tanta confusione quindi io credo che sia necessario proporre qualcosa in più con gli uomini che si è a disposizione perché ieri paradossalmente lo spezia senza un allenatore e in una posizione di classifica molto pericolosa a pochissimi punti sopra la quota salvezza per loro fortuna è rimasta invariata per via della sconfitta del Verona contro la Roma sembravano avere un'imposizione di gioco sembravano sapere cosa dover fare invece noi no questa cosa non è assolutamente accettabile e a tal proposito voglio fare una sorta di collegamento perché ho un dubbio che mi attanaglia voglio vedere come erano posizionate le Juventus di Allegri degli anni precedenti anche del primo ciclo soprattutto il primo ciclo arrivati a questo punto della stagione focalizzandoci solamente sui freddi dati dei gol fatti i gol subiti alla giornata tal dei tali quindi magari già una giornata di domani andiamo a fare questo piccolo approfondimento il voto allenatore è 5 perché veramente c'è stato troppo poco quella di ieri non può essere stata una Juventus accettabile come dice Romeo maggior ragione in questo momento quando la squadra dovrebbe ormai aver acquisito consapevolezza sicurezza e dovrebbe essere pronta e carica ad andare a stravincere una partita in Francia alzi la mano chi è convinto di andare a stravincere una partita in Francia io la tengo ben bassa Perin voto 7 7 perché è quello che dicevamo prima portieri invertiti probabilmente questa partita finiva diversamente Perin ha fatto una doppia super parata manteniamo la porta inviolata clean sheet sappiamo bene che questa squadra quando prende gol poi non vince quindi meno male che Perin ha salvato la situazione meno male che Perin ieri si è rivelato in versione Buffon contro Marchetti che doveva essere l'erede di Buffon ai tempi fatto una carriera ben diversa una guerra tra secondi portieri stravinta dal nostro numero 36 voto 6 a Daniele Rugani buttato nella mischia per via della squalifica di Bremer non sfigura partita ordinata precisa la sua anche se poi quando lo Spezia trova quelle trame in ripartenza tra le linee tutta la difesa un po' ballicchiato ma secondo me anche per colpa del centrocampo che non ha accompagnato molto bene Agudelo e Verde erano delle vere e proprie sfine nel fianco per fortuna Giasi qualcosina di meno però veramente si è ballato tanto anzi dalla parte di Giasi probabilmente il problema vero è stato Reca che veniva in sovrapposizione si portava altissimo quindi diciamo che difesa ancora ancora centrocampo poco filtro probabilmente voto 6 anche da Alexandro partita normale la sua niente da evidenziare niente sottolineare io tremo il pensiero che possa rinnovare un altro anno perché va benissimo che si è reinventato va benissimo che sta facendo anche delle partite non sempre disastrose come è stato negli ultimi anni in particolar modo l'anno scorso però credo anche che la Juventus sia necessario dare una bella boccata d'aria una bella respirata a pieni polmoni e cercare di cambiare perché è troppi anni che vediamo sempre le solite facce in continuo decadimento in continuo degrado rispetto a quelle che erano le loro versioni ottimali per le quali si sono guadagnati giustamente un posto tra titolare nella Juventus voto 6 più a Danilo che fa una partita normale voglio dare il più soltanto perché il gol di Di Maria che è bellissimo ed è tutto di Di Maria al 99% ma l'1% di Danilo che va dentro il campo e va a servire quella palla in verticale tra le linee di Di Maria che è bravo a farsi trovare in quella posizione che ne Ken ne Vlaovic sono mai stati in grado di andare a prendere vuoi per caratteristiche vuoi per tipo di approccio che era stato dato alla partita quindi andare molto sui cross Di Maria quel giocatore che invece tra linee ci va Danilo lo sa alza la testa lo vede ed è quel qualcosina in più che dovrebbe fare il difensore ed è quel qualcosina in più che invece la Juventus vediamo fare raramente invece Danilo da dietro sempre un'ottima visione di gioco e anche il l'ha dimostrato entrando dentro il campo andando in verticale sul giocatore che ti permette di chiudere la partita e portare a casa i tre punti quindi quel più credo che sia meritato per questo motivo qui disastro disastro l'istantanea che descrive Quadrado è quando a fine primo tempo manca la rimessa con le mani e voi potrete dire ma sì può capitare a tutti succede e su questo sono assolutamente d'accordo ma questo ci fa capire anche che tipo di prestazione offerto ieri Quadrado e che grado di concentrazione aveva ieri Quadrado oltre al fatto che veramente è un periodo in cui lo dicevo anche l'altra sera allo stadio tutti intorno a me continuavano a dire questo non salta più l'uomo non è più in grado di saltare l'uomo non ce la fa più dispiace vedere uno come Quadrado del quale ero profondamente innamorato essere arrivato a un punto così credo che saranno gli ultimi mesi in maglia Juve ma la prestazione ieri è tragicomica e infatti Allegri lo sostituisce a fine primo tempo perché si rende conto veramente che Quadrado non ce la può fare e addirittura gli si può preferire De Sciglio male Quadrado ieri 5 e mezzo Locatelli non mi è piaciuto rimane nella posizione di play basso davanti alla difesa nonostante la presenza di Paredes che va a prendere invece il centro-destra non ha grande prestazione di Locatelli ieri molto molto basso necessario per andare ad aiutare la difesa che era molto stressata ma Gudelo l'ha fatto impazzire Locatelli a Gudelo non l'ha mai visto ed era una sorta di gioco tra Locatelli e Lugani a Gudelo è riuscito sempre 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 a prendersi quella posizione quella zona d'ombra che solitamente si va a creare tra il centrale e il mediano e questo avveniva anche perché Locatelli stava molto molto basso e quindi lo prendete lo prendete e a Gudelo ci ha fatto vedere i sorgi verdi 4 e mezzo a Paredes l'altro sostituito nell'intervallo da Massimiliano Allegri io ormai ho perso le speranze io ormai non so veramente più che cosa pensare di Leandro Paredes perché mi dà sempre la sensazione l'impressione che lui quando va in campo quelle rare volte che va in campo perché non si merita assolutamente di giocare in questa Juventus neanche in questa Juventus il che è grave le volte che va in campo mi dà sempre la sensazione di voler soltanto fare casino di voler soltanto andare in guerra soltanto cercare il modo di attaccare briga con un altro avversario non che voglia giocare la partita non che voglia vincere la partita l'importante è fare e dare fastidio e questo dà fastidio a me che sono un tifoso della Juventus e questo dà fastidio a tanti che sono tifosi della Juventus e sono convinto che questo dia fastidio anche all'allenatore della Juventus che l'ha cambiato dopo 45 minuti perché questo giocatore in questo momento è impresentabile non può essere un giocatore da Juventus e non può essere un giocatore che si possa schierare titolare davanti agli altri anche in un momento di emergenza come questo a centrocampo 6 e mezzo invece a Rabiot un'altra frase che mai avrei pensato di dire inizio anno o comunque in generale da non fan di Rabiot e l'ho pensata ieri l'ho pensata ma l'anno prossimo che al 99% non avremo Rabiot perché non abbiamo la possibilità in questo momento di andargli a proporre un rinnovo un progetto e farlo rimanere e parlare con la madre agente e tutto il resto ma come faremo? io mai avrei pensato di una roba del genere ma la quantità la sostanza che mette Rabiot in questo momento dentro le partite in questa stagione dentro le partite si sente si sente tutto si sente tutta dopo un mondiale fatto come dio comanda la titolare nel quale è arrivato fino in finale perdendo soltanto i calci di rigore mi viene da dire come faremo senza Rabiot mai avrei pensato di dirlo come mai avrei pensato di dire ragazzi concentriamoci per andare a giocare contro il Nant perché se no veniamo inibilanti dagli spareggi d'Europa League sono due frasi che mai avrei immaginato di dire sono due frasi che mi tocca dire perché siamo arrivati a un punto veramente brutto e mediocre della storia della Juventus passerà andremo avanti torneremo forti torneremo sicuramente una squadra che ragioni in un altro modo ma oggi uno come Rabiot è imprescindibile la Juventus imprescindibile e questo forse è anche tutto un dire o almeno questo è quello che avrebbe sempre detto Luca prima di questa stagione di Rabiot poi di fronte ai fatti mi tolgo il cappello e faccio un passo indietro rispetto alle mie convinzioni ma anche ieri abbiamo fatto una prestazione solida è stato il migliore a centrocampo senza se e senza ma sei e mezzo a Kostic che ha il vanto il pregio il merito di mettere quel cross per Moise Ken e comunque Kostic dentro la partita c'è stato i suoi chilometri lì a percorsi all'ottavo cross in assi stagionale mi pare sesto in Serie A quindi sono numeri importanti veramente importanti da quanto visto è stato anche pizzicato per pizzicato intendo offeso con Corri da Sesti dalla curva dello Spezia speriamo che ovviamente la giustizia possa fare il suo corso perché sono cose francamente inaccettabili nel 2023 volto 5 a Vlaovic perché io da Dujan Vlaovic pretendo non è che voglio io pretendo qualcosa di più da Dujan Vlaovic pretendo perché diventare un giocatore un attaccante completo in questo momento è un attaccante forte fortissimo con un gran senso del gol fortissimo attaccare la profondità ma quando la palla in profondità non gli arriva e in questa Juve credo averlo visto poche volte un gioco in profondità forse soltanto a Salerno infatti non è una coincidenza non è un caso che si sia vinto per 3 a 0 deve cercare di entrare più spesso dentro la partita anche all'ultimo secondo quando Di Maria si va a proporre per quel passaggio sulla destra Vlaovic in ripartenza in contropiede non mi può sbagliare l'ultimo passaggio che poteva essere probabilmente l'unica giocata vera di Vlaovic dentro la partita diventava l'assist per Di Maria che andava a chiudere la gara sul 3 a 0 perché Di Maria da lì avrebbe sicuramente fatto gol ci vuole più concentrazione ci vuole più cattiveria io da Vlaovic pretendo non è che voglio non è che esigo non è che spero io pretendo perché sono sicuro che ne abbia i mezzi che faccia di più non lo posso pretendere da Ken che comunque si sta rivelando un giocatore che gol lo fa e in questo momento mi sembra più caldo forse addirittura Ken Di Vlaovic a livello realizzativo paradosso anche questo un'altra frase che mai avrei pensato di dire però questa è la sensazione che mi dà Ken che comunque lì ci arriva poi sbaglia davanti alla porta ecco io da Ken non è che pretenda che possa diventare un cecchino perché secondo me Ken ha delle qualità ha delle caratteristiche è un buon giocatore non è un ottimo giocatore è dietro a Vlaovic non ha il potenziale e Vlaovic ha un ottimo potenziale ma Vlaovic ce l'ha decisamente più alto Ken è un giocatore che il gol lo fa in qualche modo è già il secondo gol in questa stagione che Ken fa un po' così diciamoci la verità perché manca quel pallone lo va su virgolare poi per fortuna di sinistro nasce il gol dell'1-0 della Juventus nell'unica occasione che abbiamo costruito da dietro con Aleksandro e Paredes che poi allargano su Kostic prestazione un po' così di Ken che nonostante il gol si becca 6 viene sostituito per far spazio di Maria poi cambia la musica perché stiamo parlando di giocatori di un certo tipo e poi stiamo parlando dei fuori classe ma ci arriviamo perché poi il primo cambio è De Sciglio 5 e mezzo sicuramente meglio di quadrado perché ha fatto secondo tempo sicuramente meglio di quadrado però sembra sempre che sia lì soltanto perché deve esserci non colgo non riesco a cogliere l'importanza della presenza di De Sciglio all'interno di questa squadra non riesco veramente a cogliere mi sembra sempre che ci sia che non ci sia la stessa cosa non è un bel complimento non riesco mai a ricordarmi di De Sciglio mai 5 e mezzo a Fagioli che è entrato male pure lui perché se Locatelli dopo 18 secondi prende un cartellino giallo e va a superare il record di Rabiot della munizione più veloce che era 30 secondi di qualche partita fa anche Fagioli appena è entrato una trattenuta per la maglia Areca su una ripartenza mi dava quasi l'impressione che Fagioli non ne avesse ieri che fosse un pochino indietro di condizione che gli altri fossero più in condizione rispetto a lui quindi difficilmente li riesco a prendere li devo fermare in un altro modo alla vigilia si diceva che Fagioli era un po' indietro era un po' affaticato infatti mi sono meravigliato di vederlo scaldare ed entrare a fine primo tempo ho semplicemente pensato Allegri avrà capito che in realtà sta bene la sensazione che mi ha dato invece era di un giocatore che ancora non stava bene non so se è stato questo non so se è un momento di appannamento perché anche l'altra sera comunque con il Nante non era andato particolarmente bene ma penso che la prestazione di ieri non sia stata sufficiente anche qua come De Sciglio sicuramente meglio di quello che ha giocato prima dieci volte di più rispetto a Paredes però non una gran prestazione quella di Nicolo Fagioli voto 7 ad Angel Di Maria perché è il calcio prendi il concetto di calcio lo incastri all'interno di un essere umano e viene fuori Angel Di Maria perché questo sa giocare a calcio questo sa giocare in ogni modo possibile a calcio questo si esalta nella lotta questo si esalta nella rifinitura si esalta nell'assist si esalta nel tiro in porta si esalta nella difficoltà questo è un giocatore che post mondiale è completamente differente prima del mondiale vi dicevo ragazzi fino adesso da Di Maria io pretendo di più adesso Di Maria sta facendo quello che mi potevo aspettare di Maria già dall'inizio della stagione vuoi per problemi fisici vuoi perché la testa era da un'altra parte adesso Di Maria è Di Maria adesso sta facendo quello che mi aspettavo di vedere da uno come Di Maria e anche qua mi viene un pochino uso un termine forse dialettale la spappola che è una sorta di modo di dire vado ad imbronciarmi mi rattristo perché penso che sarà tra gli ultimi mesi di Di Maria è che questo è un poeta questo è un poeta del pallone è tutto quello che ho sempre adorato in un calciatore Di Maria è sulla falsariga del Piero e dei giocatori che mi hanno fatto innamorare di questo sport elegante leggiadro geniale anche il Di Maria e come diceva Davo non c'è bisogno necessità di scomodare Di Maria nel day off meritatissimo dopo le prestazioni di Firenze con la Fiorentina e con il Nante dove ha dato anche di più di quello che poteva dare probabilmente non c'è bisogno di scomodarlo anche alla spezia per fargli fare il gol che chiude la partita perché sennò significa veramente che il resto è troppo poco che non c'è niente dalle altre parti voto 7 ad Angel Di Maria senza voto Iling Junior pochissimi minuti per far rifiatare Kostic meritato riposo anche da parte di Kostic senza voto anche a Bonucci cambio francamente bizzarro diciamo così quello di Vlaovic per Bonucci a un minuto dalla fine anzi a 40 secondi dalla fine Allegri poi lo posiziona a centrocampo durante la difesa e Bonucci con un pallone va ad innescare Di Maria probabilmente ha fatto più Bonucci con quel campanile piuttosto che Paredes nei primi 45 minuti Allegri poi in conferenza stampa dice era giusto che anche Bonucci tornasse in campo non aveva ancora la condizione per giocare la partita ma tornare a respirare la partita dentro il campo vincendo dentro il campo perché lui è il capitano di questa squadra se lo meritava spero che questo sia l'unico motivo vero per aver inserito Bonucci anche perché eravano sopra i due gol quindi non c'era assolutamente bisogno di rifendere il risultato con Bonucci in mediana e queste ragazzi sono le pagelle di Spezia Juventus fatemi sapere le vostre pagelle qui sotto nei commenti non lo so se ci vediamo nel pomeriggio o si vediamo direttamente domani con un video analisi magari quello di cui parlavo prima comunque rimanete aggiornati il canale è sempre qui attivate la campanella che si vediamo la campanella qui si vediamo la campanella Grazie.